Ciao a tutti, come state? Spero tutto, tutto, tutto bene. Oggi è sabato, sono le 9.40. Io ho abbastanza tardi, poiché dovrebbe uscire il video, però alla fine, oggi è sabato, penso io che la maggior parte di voi, o comunque una piccola parte, diciamo che il fine settimana va a ballare e quindi non sta a casa magari a guardarsi i video ASMR. Però visto che l'ultimo video whispering vi è piaciuto molto e quindi oggi ho voluto riportarlo e niente, oggi sono anche in tenuta estiva perché stamattina, io in generale la mattina, prima di fare tutte le cose, lavarmi, fare lo zaino, eccetera, eccetera, colazione, la prima cosa che faccio dopo aver chiuso le sveglie Prima di alzarmi dal letto e guardare il medio, guardo quanti gradi ci sono, se piove almeno, lo so, sembrerò meglio con questa cosa, però in realtà almeno capisco se portarmi un ombrello, se mi devo vestire un po' più pesante, un po' più aggero, sì, sicuramente non sarà attendibile al 300 per 100, Però alla fine non ci sta e stamattina guardando il medio c'erano 25-24 gradi passati, quindi ho detto vabbè, mi metto la maglia a mezza manica e sopra, diciamo, la maglia, io la chiamo maglia aperta Non so voi come la chiamate, sinceramente E quindi niente, ieri era, venerdì siamo andati a fare le prove per il musical e sono uscito verso mezzanotte e l'abbiamo fatta, abbiamo fatto tutte le prove con i vestiti, i campi di scena Però nel video vlog vi ho dato un piccolo indizio di come sono i vestiti, ma ve li farò vedere il 18, perché ci sono le prove generali di nuovo, ma con i vestiti, luci, microfoni, eccetera, eccetera Perché tra una settimana devi andare in scena e da una parte sono contento perché sono mesi su mesi che proviamo e finalmente questo giorno si sta avverando La cosa porta anche due giorni e diciamo che sono parecchi mesi, quindi magari se ci fanno fare un tour sarei anche contento con un tour, ma da questi paesi Quindi niente, comunque in questa settimana non ho proprio voglia di fare niente Perché per esempio storia, io in genere quando studio mi faccio gli appunti perché intendo per materie tipo umanistiche Ma anche in realtà per tipo informatica, sistemi a reti, poi dipende cos'è trattato nella materia Me li faccio scritti, però preferisco installare una storia, scrivermeli Invece ad esempio queste materie di indirizzo, di informatica le faccio al computer E so da più di una settimana che rimando a farmi gli appunti Perché io poi voglio arrivare tipo quei due o tre giorni prima dell'interrogazione Con gli appunti già fatti e non voglio, in un certo senso, uscire scemo Ho un metodo di studio che forse non sarà neanche tanto efficace Però per il momento mi trovo bene In realtà il mio metodo è abbastanza semplice Ascolto in classe e mi scrivo le cose che spiegano A volte sembro un amanuenze, cioè scrivo parola per parola Invece ci sono giorni come questa settimana storia Sono riuscito a scrivere proprio niente E in realtà riesco nel frattempo a ricordarmi le cose da scrivere E le cose che sta dicendo in quel momento Quindi però non so, o in quel giorno non ero in pena di scrivere Però in realtà io scrivo abbastanza in maniera facile Poi vabbè, una volta arrivato a casa A riguardo al libro, se c'è qualcosa che posso integrare O che mi manca, me lo sottolineo E poi me lo scrivo in bella Perché ora vi faccio vedere il quaderno di storia In realtà quando prendo appunti è abbastanza disordinato Vi dirò alcune pagine anche ordinate Però quanto devo scrivere velocemente, no? C'ho qui storia perché dovevo farmi appunti Però non l'ho fatti Ora vi trovo una pagina che ho fatto a lezione Ad esempio queste pagine qua Non si capisce perché qua Per esempio faccio riquadri Frecce, tutte cancellature Poi ovviamente ci sono errori grammaticali Di ogni genere Perché in realtà quando scrivo non vado molto alla punteggiatura O se lo sto scrivendo in italiano meno Perché poi lo faccio una volta Che mi sto fermo e leggo E decentemente Se no in realtà no Niente, mi vedo di farmelo domani Oggi in realtà volevo anche andare a camminare con il cagnolino Perché era una bella giornata soleggiata Però vi ripeto Mi scocciavo Poi mi sono messo a suonare E sono rimasto al di quasi tutta la giornata E niente, come vedete Alla fine mi sono tagliato questi capelli Sono andato ieri Però in realtà Non è che me li abbia tagliati benissimo E ovviamente Ormai ha imparato a fare queste scale Che non mi piacciono Però vabbè Però non è la cosa peggiore che ha fatto E che aveva lasciato dei capelli qua Qua mi aveva fatto un buco E ho dovuto giustarli io Poi vabbè Sopra Avevo visto che C'erano rimasti così di capelli E non l'ho fatto tagliare più E poi arrivato a casa Mi sono reso conto che Il giuffo Perché dietro erano corti Me l'aveva fatto troppo lungo Quindi Ho preso le forbici Che ho iniziato a tagliare Tra qualche giorno Me li taglierò anche ai lati Perché ormai sto diventando Un barrucchiere Ovviamente ora Voi mi direste Perché non cambio i barbieri Se non ti piace O ogni volta trovi un difetto Ma io in realtà Trovo i difetti in tutti i barrucchieri Però non ha Non so Non mi piace neanche uno Come li fa Però purtroppo Me li devo tagliare Lunghi Non mi piacciono E perlomeno Una volta al mese Non dico Due volte al mese Però Me li devo tagliare Perché Non mi piacciono Perché poi Non so Mi gonfiano Già io Con il peso Diciamo che ci sono giorni In cui mi vedo grasso E giorni in cui mi vedo magro Quindi i capelli Aumentano la mia visione Già oggi Ho detto Mamma mia Che braccio fino Perché Diciamo che si chiudono Alle due Cos'i chiama Il pollice Il medio Cioè Si chiudono E sopra Accallano Anche No Il braccio destro Dal sinistro No Vabbè Ah no Vabbè Si chiude qua Però All'altro braccio Riesco anche Ad accavallare Le mani E Sarò strano Sarò che Col peso In realtà Vabbè Sarà perché Comunque Quando ero Due anni fa Ho perso Più di undici chili In un mese Però poi Diciamo che Ora ne ho presi Quattro o cinque E In realtà Io Non ero dimagrito Chissà per che cosa Ero dimagrito Semplicemente Perché Non mi piacevo Tuttora Non ne sono soddisfatto Sicuramente Se avrei continuato Ad andare in palestra Sarebbe diverso Magari Avrei un po' più di forma E quindi Mi vedrei In maniera diversa Però Il problema è sempre Comandarci Io Un periodo Un mese L'ho fatto Però stare Tre volte a settimana In quel paese Per andare In palestra Quando in realtà Poi c'era pioggia Grandine Stare in mezzo A una strada Non era Una delle migliori cose Quindi Ho smesso di andarci Ora Ho la potente Però Non ho il mezzo Quindi La situazione Non è cambiata Il pullman Sì Allora potrei prendere Il pullman Però Gli autisti Un giorno Si svegliano Che Può andare Due volte Al giorno Con l'abbonamento E a volte Ci può andare Sempre Però Comunque Sarebbero Degli orari Un po' Troppo Perché Magari Poi Torno a casa Mangio Il tempo Di stare Cinque minuti Sul letto Sul divano E poi Dovrei Riprendere Il pullman E arrivare A casa Le settimassate Poi se io Magari Ho un compito O Una cosa Da studiare Non mi ci metto A farla E comunque Poi dalla palestra Posso stare Un'ora Due ore Massimo Poi dopo Cosa faccio Dovrei aspettare Il pullman Quindi Non mi va Però Vabbè Tanto L'anno prossimo Se tutto va bene Dovremmo andarcene Oggi Il prof Di complementi Di matematica Ha portato La verifica Però Non ha messo Il puto Io come vi Dissi Secondo Le mie previsioni Mi è andato male Però In realtà Guardandolo Quei Due Tre Esercizi Che ho fatto Diciamo Due E mezzo E così possiamo dire Perché poi Diciamo Che ho saltato cose Ad uno Per esempio Avevo sbagliato A fare dei calcoli Però il procedimento Era lo stesso E agli altri Erano Anche giusti Forse a uno Ho sbagliato Un numero Però Penso sia Negativo Lo stesso Però Forse Non tanto Negativo Di quanto Io mi aspettassi Spero che Non sia troppo Perché poi Per recuperare Ci vuole Un sacco Anche se Ho già testato Non ricordo Forse Ero in seconda Ho recuperato Un due e mezzo In matematica In realtà Non so neanche io Come i feci Però Lo avevo recuperato E io in matematica Non ci capisco Assolutamente niente Ovviamente Sono andato Un sacco Di volte All'interrogazione Perché Ovviamente Io Non è che prendo Dieci Chi l'ha mai preso Dieci in matematica Io No assolutamente In realtà In nessuna materia Dieci Vabbè Alle medie Prendevo Dieci in musica Però Ora Alle superiori No Andiamo verso L'otto In italiano Storia Poi Vabbè In realtà Pure sistemi In reti Dipende Pure informatica Dipende Poi anche Dagli argomenti Che ci sono Se le capisco O meno Non intanto In italiano Storia Che intendo In Informatica Perché informatica In realtà Sì C'è la teoria Però Vabbè Oltre alla teoria Devi sapere Fare la pratica Che ovviamente È collegato Quindi Sì Serio Teoria Dovresti Dovresti Saper fare Le cose pratiche Spero che questo video In whispering Sussurrato Vi sia piaciuto E che vi abbia Rilassato Poi Ovviamente Settimana prossima Devo vedere Di anticiparmi Anche il prossimo Video smr O magari Non uscirà Perché il musical È il 19 Il 20 E voglio fare Un video Sempre in Sussurrato Dove vi racconto Di come è stata Questa mia Di come sarà Perché ancora Non è stata Di come sarà Questa esperienza All'interno del musical Di come Magari L'ho vissuta Sul palco Guardando le persone Anche se forse Mi toglierò Gli occhiali Ora Devo vedere Perché Essendo che sono Gemello L'altro Ragazzo Non ce li ha Da una parte Meglio Così Non ci vedo Così Non vedo Niente Nessuno Magari Non vedo Conoscenti Perché L'ho sfogato E quindi Non riconosco Nessuno E Quindi niente Vorrei fare Questo video Ovviamente Come sempre A voi Consigliatemi Qualche Tipologia Di video Che Vi potrebbe Interessare Ovviamente Dei video Vlog Video smr E In sotto Video Mi è stato Proposto Un video Di fare Vedere il mio Paesino Però Sinceramente Non saprei Perché Il mio Paesino Non è che Abbia Chissà Quante cose Da far Vedere E Non c'è Praticamente Niente Ed è Anche Una di Queste La motivazione Per cui Andarmene Però Vabbè Ovviamente Io me ne voglio Andare Per l'università Perché Anche Per Il lavoro Che voglio Fare Io Qua È Impossibile Qua Non c'è Assolutamente Niente Quindi Sarebbe Impossibile Qua Vivere Qua E fare Magari Qualcosa Che non Mi piace Perlomeno Magari Non riuscirò A fare Quello Che voglio Però Voglio Provarci Se sono Capace O meno Adesso Poi a giugno Perché Hanno messo Le date Che sono a giugno Faccio il test Per l'università Ora Se posso Non lo so Però Noi Nel caso Tentiamo Nel caso Valuteremo Quella cosa Come Una sorta Di crescita Personale E guardiamo Il lato positivo Guardiamo Più Meno Come Verrà Strutturato Questo test E niente Vi ricordo Che ogni Mio video Esce Lunedì Video Vlog E sabato Video ASMR Noi Ci vediamo Con un prossimo Video Ciao Ciao